Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio, sentite? Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio, sono Fabio della Pelle, non vengo da Roma, vengo da qui vicino, vengo da Diagere. Nonostante ora faccio questo, a parte del ricettatore che sta di Teramo, sta di grigga analitica, vengo dalla famiglia di Frantoiani, la mia mia bismonia è un frantone a casa Cavitella e purtroppo, dico purtroppo, ho 300-250 piante di fabbrica e io facendo altro, e quindi tutti i discorsi che sono stati fatti che deve essere sì valorizzata la qualità ma deve essere anche un prodotto che deve rendere importante perché allo stato delle cose penso che le mie ponte o le venderò o rimarranno così. Quindi mi sono introdotto e scusate ma volevo farvi capire che non faccio solo ricerca ma vengo da qui e sono molto vicino a quella che la realtà era dell'olio e dell'ulio in canto. Bene, detto questo voglio parlarvi di quello che facciamo, il professore ha parlato un po' di come abbiamo caratterizzato i vostri oli, tuttavia cerchiamo di lavorare a innovare, innovare in che senso? Cercare di sviluppare sistemi, avete visto l'oxy-taser che avete usato voi e anche voi, in canto noi cerchiamo di sviluppare sistemi che vadano oltre quello che c'è sul mercato, il professore vi ha parlato di diverse tecniche, queste tecniche in tutti i casi richiedono strumentazione costosa, quindi quello che cerchiamo di fare è di creare dei dispositivi per valutare in questo caso composti della qualità e della sicurezza alimentare. della qualità, parlo oggi per un po' esempio, dei polifenoni dell'olio d'oliva, però della sicurezza alimentare mi lavora anche molto con analisi di contaminanti che possono essere pesticidi, di prodossimenti, cerchiamo quindi dalla parte mia quello che cerchiamo di fare è sviluppare sistemi semplici, poco costosi, che escano un po' fuori dal laboratorio per arrivare un po' al consumatore finale, diciamo un po' come l'oxy-taser ma ancora meno costoso e con qualche informazione di più. Allora, per quanto riguarda l'olio, oggi vi presento il registro dei dispositivi che vi farò vedere anche fisicamente. Come facciamo? Cerchiamo di lavorare su due cose, molto semplici, nanonateriali, diciamo i limiti dei metodi convenzionali, scusate, ho saltato una slide, i limiti convenzionali sono spesso richiedono l'estrazione dell'olio, quindi l'uso di solventi, i dati li vanno interpretati, la strumentazione costosa già l'ho detto, e spesso i dati sono parziali, c'hanno solo alcune informazioni. Noi cerchiamo di sviluppare sistemi su carta, plastica, sistemi molto poco costosi, che diranno la possibilità di valutare composti, in questo caso composti della qualità, visivamente o semplicemente utilizzando uno smartphone. Vedo molti ragazzi, spero che non solo a loro interesse in questo. Come facciamo? Usiamo i nanomateriali. Ma i nanomateriali non sono nulla di cattivo, sono semplicemente dei composti, dei materiali di dimensioni piccolissime, la migliorissima parte di un capello, visto la sezione di lato, ad esempio, e li abbiamo usati durante questo periodo abbondantemente. I test antigenci, quelle stricette rosse che tanto temevamo, sono fatti di nanoparticelle d'oro. Quindi nanoparticelle d'oro, quindi nanomateriali, stando dalla parte nostra, possono essere, devono essere sfruttate a favore del consumatore, quindi dell'utilizzatore finale. Noi ci lavoriamo molto per cercare di ottenere informazioni in questo caso della qualità del mondo. E quello che cerchiamo di fare anche, fare il tutto in maniera molto economica, quindi sostenibile dal punto di vista dei materiali utilizzati, sfruttiamo molto la carta, perché la carta ci permette di lavorare molto agevolmente con l'olio, e sfruttiamo semplicemente la plastica, le plastiche flessibili, quelli che si usano, le semplici plastiche che si sono per plastificare le foto, i documenti. Quindi immaginate che i costi sono veramente bassi, e per sviluppare i sistemi che utilizziamo molto spesso, stampanti simili a quelli che abbiamo nell'ufficio, nelle scrivanie di casa. Oggi vi presento due semplici strumentini, che servono per vedere quanti polifenoli ci sono nell'olio, e l'attività antiossidante degli stessi, quindi la differenza è la spiegata di professore. Possono essere tanti polifenoli, pochi antiossidanti, o pochi polifenoli, tanti antiossidanti. Quindi per vedere queste due cose abbiamo sviluppato questo sistemino di carta, che è questo, ce l'ho tra le mani, molto semplice, che ci dà due informazioni, vedete una parte rossa e una parte gialla, sono due dividendo una particella diverse. Quando sulla carta metto l'olio, cambia colore, diventano più intensi i colori, e in questo modo riesco, questo è come sviluppare il dispositivo, in questo modo vedete come cambia colore, riesco a vedere quanto è antiossidante un olio, e quanti polifenoli ci stanno. E qui vedete un esempio, ho fatto tre oli, tre oli a basso contenuto, medio contenuto a tono, vedete come si intensifica, il colore anche otteometricamente posso valutarlo, ma con un cellulare posso avere una quantificazione, con una semplice A, una quantificazione molto più accurata. e questo ci ha permesso di valutare, l'ho testato anche con uno dei vostri oli, e questo ci rende possibile di sviluppare sistemi veramente poco costosi, questo è il costo di questo istituto, è il 3 centesimi, e spero che un domani esca, è un prototipo, esca dal laboratorio per raggiungere il consumatore, produttore o trasformatore. I vantaggi quali sono? Che un composto si getta, si può usare in campo, si può trasportare, sta tra due dita e basta un cellulare. Non devo vendervi il prodotto perché è in commercio, però ci credo veramente. Vi faccio un altro esempio, questo è un altro strumentino che stiamo sviluppando, prima ho fatto l'esempio del test per l'antigeno per il covid, questo è un glupometro, che è spesso utilizzato nelle case, il concetto che ora sfruttiamo è lo stesso, perché non possiamo sfruttare i concetti del genere per valutare la qualità di un alimento? Perché tutti se non usano un glupometro, basta metterci in qualcosa, e poi cerchiamo di sviluppare dei sensori dove basta mettere una goccia d'olio per ottenere dei risultati di tono interessanti. Non parlo di sosteguità perché usiamo maschine poco costose, a volte anche riciclabili e carta, ma anche in questo caso abbiamo usato scarti corturali per produrre il materiale stesso, in questo caso non è un dispositivo ottico, un pochino più complicato, si parla di elettrochimica, che l'elettrochimica che cos'è? Vede come dei composti cambiano delle correnti, perché in questo caso con i fenoli dorano elettroni, quindi assorbimento e rilascio di elettroni, quindi i picchi che vediamo sono proprio correlati al potere, alla capacità antiossidante che hanno questi composti. Come vedete sono dei piccoli dispositivi, di nuovo, dove c'è il, è questo, si collega semplicemente al cellulare, non si rompe, o meno spero, e basta mettere una goccia d'olio su questo dispositivo, avviene la corsa, e otteniamo dei risultati. Nel giro, prima erano 5 minuti, ora è 2 minuti, e vediamo i 2 tipi, 2 classi di poliglioni oli più presenti del loro, molto interessanti, e quelle sono analisi sia di composti strana che di 3 oli, oli con diverso contenuto fenomenico, e vediamo quanti poliglioni ce ne sono e di che classe ce ne sono. Molto molto semplice, e di nuovo, questo per farvi capire che vediamo non solo quanti sono, ma anche diversi qualità, e molto semplice il discorso, poco costoso, si può portare in campo, basta, si può connettere semplicemente al cellulare, e questo. Oggi vi ho raccontato qualcosa di quello che facciamo, con relata all'olio. Io nel 2012 ho vinto un premio della, se non sbaglio, della CIA di Giulia Nuova, che era proprio un premio sui medici per l'olio, e da lì è partita, diciamo, la mia carriera all'università, e ora sono ricercato, e quindi sono molto motivato da quel premio, e quindi penso che oggi la presenza di ragazzi è una cosa molto bella, e è anche molto importante. In conclusione, vi ho dimostrato come, ok, siamo bravi a vedere benissimo cosa c'è nell'olio, a valorizzarlo, ma stiamo cercando di innovare a livello dispositivo, perché questi dispositivi sono prototipi, ma spero che da qui a Poma, e strano fuori, arrivano sul mercato, per fare in modo che non solo le grandi aziende possano valorizzare i prodotti, ma anche i bifoli produttori, come nel caso dell'Oxysa, e spero che un domani arriveranno, tra le vostre mani, anche questi dispositivi. E spero di essere stato nei tempi, sono stato, spero molto a prevedere, grazie. Grazie.